Gravemente malato, gli ultimi esami rilevano un decadimento cognitivo dovuto a una patologia che potrebbe rivelarsi fatale. Carlo Gilardi sta male. Il professore di Air 1, 93 anni a dicembre, al centro, su malgrado di una delicata vicenda giudiziaria, godrebbe di precarie condizioni di salute. A rivelarlo è legale di parte civile nel processo scaturito dalla denuncia per diffamazione dell'amministratore di sostegno Elena Bara nei confronti dei giornalisti del programma delle Iene, Nina Palmieri e Carlotta Bizzarri. In aula è stato chiesto di poter ascoltare come testimone proprio Carlo Gilardi, dal 30 ottobre 2020, ospite della RSA Air 1 di Muzzi di Lecco. Sarà fatto nella prossima udienza del 15 settembre. Il giudice si è riservato però la possibilità di procedere a una perizia in quella sede per capire quanto Gilardi sia ancora in grado di comprendere e ricordare. Nell'udienza di stamane, che ha visto l'audizione del direttore sanitario degli istituti riuniti Andrea Millul, è emerso come alla stessa barra risulta indagata, anche se non è chiaro con quale capo di imputazione. Potrebbe aprirsi dunque un nuovo fronte giudiziario, mentre il processo per circonvenzione di incapace nei confronti di cinque stranieri che si sarebbero approfittati della prodigalità dell'anziano professore è ancora in corso. In tutto questo si inserisce la sentenza della Corte Europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo, che ha contestato la violazione dell'articolo 8, in cui si ribadisce il diritto al rispetto della vita privata. Dopo il pronunciamento in questi giorni, la visita autorizzata ai cugini di terzo grado del professore, che si erano rivolti alla Corte Europea, mentre il sottosegretario alla giustizia, Andrea Del Mastro, riferendo in Parlamento a un'interpellanza di 5 Stelle, ha negato che Gilardi sia mai stato posto in una situazione di confinamento sociale del suo ingresso in RSA, rimarcando come sia difficile pensare di farlo tornare a casa in un cascinale che l'anziano si ostinerebbe a non voler ristrutturare e che versa in condizioni faticenti, ancora più difficile oggi che Carlo è malato.